Episodio 39 del corso di Flutter, oggi voglio parlarvi del responsive design. Se arrivate dal web development, non è un problema, sapete già cosa sto intendendo. Se invece è la vostra prima volta che sentite questa parola, o quantomeno la sentite per dover far voi un responsive design, vediamo allora di cosa si tratta. Allora, tenete conto che innanzitutto Flutter può essere utilizzato anche per creare applicazioni web, e le applicazioni web funzionano su un browser, quindi possono funzionare sia su mobile, che su tablet, che su desktop. Come potete ben capire, ci sono già su applicazioni web tre tipi diversi di schermi. In realtà poi i mobile hanno diversi schermi, stessa cosa i tablet hanno diversi schermi. Per quanto riguarda le applicazioni effettivamente mobile, un'applicazione può essere scaricata dallo store sia da tablet che da mobile. Qui ne abbiamo due tipi di schermi diversi, senza considerare che ci sono diversi tipi di tablet, diversi tipi di mobile. In aggiunta, un'altra cosa che possiamo avere è ad esempio la Portrait, che è quella verticale, o la Landscape Mode. Quindi non solo abbiamo diversi schermi su cui la nostra applicazione può essere usata, quindi diversi tipi di device. In aggiunta, sui device mobili e tablet, possiamo avere sia in verticale che in orizzontale. Come potete vedere, la situazione qua in verticale ci stava. Avevamo che l'elemento portava con sé di base tutta la riga, portava via con sé tutta la riga, vedete? Mentre invece, lato orizzontale, lato Landscape, abbiamo una bruttissima zona bianca laterale. Quindi lavorare responsive vuol dire andare a prendere quelle che sono le differenze, innanzitutto, di orientamento del dispositivo. Quindi stesso dispositivo, che però può essere in Landscape o Portrait Mode. In aggiunta, vuol dire prendere le differenze tra larghezze di schermi. Quindi la stessa applicazione su mobile si deve vedere in un modo, la stessa applicazione su tablet si deve vedere in un altro modo. Se poi è un'applicazione che è anche desktop o web, su desktop appunto, quindi su monitor più grossi, si deve vedere in modo totalmente diverso. Per andare a raggiungere questi obiettivi, possiamo utilizzare due modi. Allora, per quanto riguarda l'orientamento del telefono, possiamo utilizzare o l'orientation builder, quindi utilizziamo un builder apposta che va a capire l'orientamento del telefono, oppure possiamo utilizzare la media query per l'orientamento. Per quanto riguarda invece il responsive in generale, utilizziamo sempre le media query. Queste media query, vedetele come degli oggetti in grado di capire la larghezza dello schermo, l'altezza dello schermo, l'orientamento, se vogliamo utilizzare la media query, e altre cose che ci possono servire per cambiare il nostro layout. Quindi tutta strava per dirvi che, molto probabilmente, dovrete cambiare il vostro layout in un modo o nell'altro. E quindi facciamo riferimento alle media query in generale, ma vi faccio vedere anche l'orientation builder. Allora, partiamo proprio da quello che secondo me è molto più semplice. E io voglio passare, vedete, da qui, dove ne ho solo uno per riga, e voglio mantenerlo, in orizzontale voglio averne due per riga. Però, se vedete bene, abbiamo le list view. E le list view sono un bel problema, perché? Perché le list view è una lista. Noi invece li vogliamo qua incolonnati, mentre invece in orizzontale li vogliamo ravvicinati. Come possiamo fare? Dobbiamo passare ad una grid view. Quindi da una list view passiamo ad una grid view. Scusatemi, fatemi scrivere qua grid view. Perfetto. Togliamo qui. Quindi vogliamo ancora utilizzare il builder. Cosa ci manca però? Ci manca il delegate. Se vi ricordate, il delegate prendeva uno sliver. Facciamo così. Andiamo ad aggiungere il cross axis count. E adesso ci arriviamo. Dobbiamo poi andare a mettere l'orientation builder. E lo mettiamo qua. Quindi orientation builder. Eccoci qua. Orientation builder. Perfetto. Ci dà un po' di rogne, perché ha bisogno di un builder e non di un child. Quindi andiamo a mettere un return. Qua togliamo la virgola e mettiamo semplicemente il punto e virgola, perché ormai è un return. Dopodiché dobbiamo spostare questa parte e la spostiamo esattamente qua in fondo. Perfetto. Vedete che non c'è errore, non c'è trucco, non c'è inganno. Abbiamo qua un solo problema con cross axis count. Adesso che abbiamo il nostro orientation builder, l'orientation è già qua praticamente. Di conseguenza, noi possiamo dire che vogliamo una sola grid quando siamo in verticale e due grid affiancate quando siamo in orizzontale. Di conseguenza prendiamo orientation. Quindi orientation uguale uguale ad orientation punto portrait. Quindi se siamo in verticale ne voglio solo uno, altrimenti ne voglio due. Vi dico già che avremo dei problemi. Aggiorniamo. Vedete, adesso che abbiamo messo le grid dobbiamo cambiare l'aspect ratio. Da qui, child aspect ratio. Non me lo trovava. E vado a mettere 5. Aggiorniamo il codice. Aggiorniamo. Perfetto. Vedete che è già un po' più bello da vedere. Magari facciamo 6 per vedere più elementi. Molto bene, abbiamo 6 di aspect ratio. Quindi è meno alto l'elemento. Però vedete che sono tutti in verticale. Se io mi giro, e giro qua perché non me lo fa automaticamente, ho perso l'applicazione. Eccoci qua. Vedete che adesso sono affiancati due su ciascuna riga. Chiaramente possiamo cambiarlo col cross axis count, però vedete che ce l'abbiamo fatta e soprattutto molto velocemente. Quindi se volete cambiare un layout o parti di layout in base all'orientamento, potete far così. Invece possiamo prendere la strada delle media query. Per fare ciò io ho preso un altro device, ho creato un tablet ed eccolo qua. Eccolo qua, vedete che ho il mio tablet. Voglio andare a mandare a schermo con le media query senza fare niente di complesso. Mandare semplicemente dei colori diversi in base alla larghezza dell'elemento. Quindi ci spostiamo qua dove c'è il nostro builder e voglio andare a creare una variabile size. Quindi size è uguale a media query. Ecco qua. Senza sta parte però. Voglio media query of context. Quindi stiamo facendo riferimento al context punto size. Molto bene. Qua giustamente ci dà errore. Creiamo banalmente una variabile. E adesso abbiamo la nostra dimensione. E io vi dimostro che se faccio un print di size, vado qua, aggiorno e abbiamo, vedete, la nostra dimensione. Vedete? Questa è la larghezza e questa è l'altezza. Quindi se anziché fare size vado a fare size punto width, aggiorno, abbiamo la nostra larghezza. Quindi vorrei fare che se la size del nostro schermo è inferiore a 600, voglio colorare lo scaffold, quindi fare lo sfondo di un certo colore, altrimenti se siamo da tablet lo voglio fare di un altro colore. Quindi scaffold, background color, colors punto green, aggiorniamo, vedete che è green. Tuttavia, andiamo a mettere size minore di 600, mettiamo green. Ups, devo fare il punto di domanda, scusatemi. Altrimenti vorrei fare un bel colors punto orange e sapete che sono io. Quindi aggiorniamo molto molto bene. Giro, vedete, quindi la media query mi ha preso la larghezza dello schermo, in questo caso la larghezza è quello che prima era l'altezza perché abbiamo girato lo schermo. Ma vi dimostro che può funzionare anche su tablet, quindi prendo tablet, faccio partire anche su qua, perfetto, aspettiamo che parta. Devo fare l'accesso chiaramente. Ed eccoci qua con sfondo arancione. Vedete, vado in landscape, scusatemi in portrait, quindi mi sta cambiando perché siamo in portrait, ma in realtà potremmo gestirla in modo diverso perché qui essendo tablet potremmo volerli a prescindere vicini perché chiaramente lo schermo è più grande. Comunque vedete che la larghezza dello schermo è più grande di un mobile, di conseguenza il colore è cambiato. Togliamo il tablet che non ci serve a sto giro. E tutto questo per dirvi come la nostra media query ci permette di prendere informazioni su quello che è il nostro dispositivo. Vedete che abbiamo anche l'orientation, quindi la stessa cosa che abbiamo fatto qua con l'orientation builder. In realtà potevamo banalmente farla con la media query of context orientation. Prendevamo qua l'orientation e in base al tipo di orientamento potevamo cambiare esattamente come abbiamo cambiato qua. Adesso mi dà errore perché l'orientation chiaramente non è numerica e siamo a posto. Quindi tutto questo per farvi capire semplicemente come possiamo utilizzare l'orientation builder se vogliamo fare qualcosa di un po' più veloce senza impazzire con le media query oppure con le media query come possiamo andare a cambiare il nostro layout in base al tipo di orientamento o dispositivo su cui ci troviamo. Nel prossimo video voglio parlarvi del layout adaptive, quindi da responsive passiamo ad adaptive. Ci vediamo tra poco.